colare dovresti tipo saltare a un quarto di blocco un fatto del genere io ho rischiato di morire proprio qua alla rama giusta alla rambona al 90 bello non te lo auguro vediamo cosa fa si vede lontano un video che di roi musti ma comunque la questione albanese c'è adesso non può essere tipo albanese minchia albanese allora sarà figa per forza no capisci no no non fu per me perché non sono ripeto che io so di due gemelli albanesi che sono spettacolari a livello del cazzo è lì ciao 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 ma comunque la 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 la